Siamo alla decima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove c'è anche il nuovo IMAI e saremo qui fino al 24 ottobre. Do intanto un caro saluto a Roberto Ciufoli. Buonasera, la festa non solo continua, cresce perché hai visto che la decima edizione è sempre più bella, sempre più interessante, un programma sempre più nutrito e quindi questo come sia spettatore di tutti i film che vengono proiettati e che verranno poi proiettati nelle sale, che come artista quindi con la possibilità poi magari anche di parteciparne ad uno, sono felicissimo. Senti, tutto questo fa bene al cinema, all'arte, agli attori, perché insomma essere attore oggi non è facile, una volta insomma forse lo era di più o sbaglio? Non lo so se una volta lo era di più, ti posso parlare della mia esperienza da 30 anni a questa parte, quindi ti dico che quando abbiamo iniziato a lavorare in questo campo non era facile nemmeno allora, c'erano degli altri parametri, c'erano degli altri mezzi, non c'era per esempio la diffusione web, quindi per la nostra formazione si iniziava studiando magari un po' di più o cercando anche di avere un contatto con il pubblico in palcoscenico, quindi piuttosto che una piattaforma virtuale, la nostra è una piattaforma reale, proprio materiale, di legno con pubblico davanti e quindi quello che si rischiava non era soltanto l'insulto virtuale, ma era proprio la sberla, lo schiaffone, il fischio di quello che ti stava guardando, quindi c'erano veramente degli altri parametri, e delle altre cose. C'era comunque un po' già da allora, ma forse nel passato, c'era una considerazione maggiore di quello che fosse il nostro ruolo come attori. Ora io credo che la difficoltà sia nel fatto di avere bisogno di avere un riconoscimento della nostra professione, perché una professione non è un passatempo, l'equivoco che nasce normalmente dal fatto che sia una passione e che rimane una passione non deve poi far cadere nella trappola e pensare che è una passione che si fa così per passatempo come fosse andare a pesca di trote. Che lavoro fai l'attore? No, ma per davvero? Sì, ma questa è una battuta che hanno fatto anche a me, un tassista, una volta me l'ha detto sul serio, quindi sono proprio testimone oculare di una battuta del genere. Quindi, visto che per fare il lavoro che facciamo c'è bisogno di considerarlo come un lavoro, che sia considerato come un lavoro e come un bene utile, perché quello che facciamo poi è un bene utile socialmente, e di questo non credo di dire una cosa esagerando, ma penso che abbia veramente un valore importante vedere tanto pubblico qui perché viene a vedere il film, come può vedere il programma televisivo, come viene a vedere lo spettacolo teatrale che non è ancora meno importante di quello che viene ripreso e mandato in onda. Insomma, c'è un ruolo, ecco, allora quello che rivendichiamo è il ruolo. Dopo tanti anni, cioè quando ho iniziato a farlo avevo vent'anni, e ne sono passati tanti adesso, ti dico veramente, questo succedeva nel 1981, a vent'anni iniziavo, e quando dicevo che il lavoro facessi era una novità anche per me farlo. A tanti anni di distanza, io mi trovo ancora a dire e a cercare di convincere, di persuadere, quello di cui sto parlando, che quello di cui stiamo parlando, il nostro lavoro, sia a tutti gli effetti un lavoro. Certo, io non ho dubbi che il farmacista faccia un lavoro, che l'idraulico, quando mi dice vado a lavorare, dico ma perché l'idraulico è a tutti gli effetti un lavoro? È a tutti gli effetti un lavoro. Quello dell'attore è a tutti gli effetti un lavoro, con tutte le sue difficoltà, con tutti i suoi benefici, perché c'è anche dei molti lati positivi, ma insomma è un lavoro. Ora, che ci sia un punto di domanda, questa cosa mi avvilisce un pochino. Pensare che qualcuno possa pensare di fare il furbo, ecco, come ritorniamo sempre alla pirateria, e scaricare il film perché così è riuscito a risparmiare qualcosa, significa non riconoscere per niente neanche un minimo del valore che ha quello che stiamo facendo. Perché se non possiamo poi vivere di quello che stiamo facendo, smettiamo di farlo, il che non creerà un danno alla salute del pubblico, almeno alla salute pratica e materiale effettiva, cioè non moriranno di fame se i teatri chiuderanno, se i cinema chiuderanno. Probabilmente moriranno quantomeno di noia e si avviliranno anche da un punto di vista... Diventeranno un po' più brutti, dai. Sì, sì, io immagino un mondo senza teatro, senza cinema, senza spettacolo dal vivo, senza intrattenimento, senza cose riprese, lo immagino un mondo triste. A proposito di teatro che tu citavi prima, sei in teatro in questi giorni? Sono in teatro, adesso a Roma fino a domenica, con uno spettacolo al Teatro Ghione, molto divertente, una commedia, dove ho proprio la soddisfazione di vedere il pubblico che si diverte tanto e quando ci incontra, perché non sono solo in scena, ma sono con altri attori, Gaia De Laurentiis, Francesca Nunzi e Diego Ruiz, che quando ci vede poi uscire dai camerini ci ringrazia per le due ore passate, proprio, ah, grazie, che bene, ma affatto ne avevo proprio bisogno. E allora questo ancora di più va a sottolineare quello che ti dicevo prima, che non avremo lo stesso effetto dell'aspirina, ma probabilmente mettiamo in condizioni di farne a meno. Che cosa ti senti di suggerire, se te la senti, ai giovani che sono anche presenti qui alla festa del cinema? Sono molti. Beh, ai giovani io suggerisco di rispettare se stessi rispettando il mondo che li circonda, il mondo in generale, dall'ambiente che insomma diventa un qualcosa di assodato, a un mondo professionale. Quindi se loro vogliono avere e ottenere poi rispetto in quelle che saranno le loro professioni, dovrebbero avere rispetto per quello che si muove intorno a loro. Quindi non pensare di essere furbi fregando qualcuno, perché il qualcuno poi potrebbero essere loro, a loro volta, in altre situazioni, in altre occasioni. Cane che si muore della coda. Sì, insomma diventa molto più facile vivere in maniera semplice rispettando certi parametri, che sono parametri appunto di ricerca del bello e per ricerca del bello intendo proprio ricerca di qualità, che sia qualità personale, generale, estetica, di spettacolo, di condizioni di vita, insomma quindi è il bello e rubare non è mai bello. Assolutamente no. Ricordiamo allora un appuntamento importante che è quello del 21 di ottobre, qui alla Festa del Cinema di Roma, quando si terrà proprio il convegno artisti in rete. Ti aspettiamo, perché la pirateria danneggia la creatività e il paese, giusto? Assolutamente. Pensiamo qua al cinema soltanto ai pirati dei Caraibi e basta. Ciao. Ciao.